Dove devo guardare? Dentro lì, vai, mi si vede. Dentro dove? Dentro qua. Abbiamo registrato l'eccezione, c'è un palo gravina, anche se non riesce a guardarci. Degustiamo insieme questa malvasia di Bosi, io voglio capire 20 ventesimi dell'espresso dove nasco. Questa è una trappola, non è una trappola. Questa è una trappola, lo sai, devi stare lì e non puoi dire niente. Colore del sole, delle dure della Sardegna, bellissimo il Mediterraneo, almeno a livello di colore, spettacolare. Naso di macchia mediterranea a inizio agosto, c'è ancora qualche fiorellino sparso, ma viene questo odore profumato di arancio un po' dappertutto, questo bello odore di sole, leggero odore di campo, poi viene ovviamente questa albicocca, questo settore leggermente tropicale, poi queste note un po' secche che vanno fra la norciola, la mandorla, queste sensazioni quasi sul tabacco, sensazioni di dattero ovviamente, ma queste sono banali, in realtà sono più quella speziatura che da, lo so, ti sto annoiando. Ma scusa, tu devi avere un attimo appisolato. Infatti è noioso, va bevuto questo vino, perché in bocca passi un quarto d'ora a chiedere se è dolce o secco e poi lo apprezzi quando capisci che la risposta non è quella la domanda che devi fare. La domanda che devi fare è se questo vino ti racconta qualcosa. La risposta è, ti racconta una regione, ma ti racconta anche un'idea di vino che è sempre più difficile da trovare. Quindi complimenti a chi l'ha trovato così eccezionale. Ma complimenti a chi l'ha fatto, dai. Soprattutto. Grazie.